marzo marzo albore per me albore cazzo in google oh no c'è una macchina viena nooo ma questa che va in posto cazzo in serio ahahah pensavo di si si che va in posto nice infatti ho visto che hanno individuato nooo ah no? no 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 shish faccio 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 e ora mi hanno individuato perchè mi hanno sparato c'è giro di me tranquillo faccio faccio vaffanculo ce la fai a morì? no! no! kill dead vaffanculo naranin naranana stiamo arrivando paraparaparaparà vaffanculo 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 io non mi guardo sto abituato alle no al setup di cose di mother-boyfriend quindi non mi ricordo un cazzo oddio com'è morto questo si troverà il galea è morto no 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 riii ma fattimo Perfetto di... Nice! Too easy! Boss! Sajos! Roger Wolf! Bene! Benne! Che stai a fa? Eeeh, famuola! Eeeh, famuola! Eeeh, famuola! Eeeh, famuola! Eeeh, famuola! Eeeh, famuola! Facciamo lo stealth, quindi pigliamo l'arco! E qui ce va! Nice! Nice! C'ho una mitagliatrice! Può funzionare! Ben! Perché non c'ho una mitagliatrice? L'ho preso! Ho detto uno l'ho preso! Ah scusa! Va libera quello sta giallava quello... Buono! Piano piano, non ti fa scusare! Ah! Devo uccidire uno tutte le quattro! No! Sega! Non mi hanno visto eh? Devo essere forte! Quattro per quattro! Eita! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oggi ti amo... Oggi ti siamo giunti! Oggi ti siamo giunti... Con una ventina... Oh cazzo! Ok... E' tutto a posto! Oh! Mica davanti! E' che... Eh sì! il convoglio non guarda è una macchina di merda ma questo è deficiente facciamo una cosa guardami si fa no bastardo scusate permesso avanti io ho fatto il tuo cuore vediamo adegni caso che provo a farla stelta non so ammazza quello bravo io mi sembra un po' vera quando sentito spiati in testa Coraggio! Coraggio! Ma ho piatto in testa! Oh! Possiamo prendere! Che hai fatto? Bacca droide! Guarda sto bastardo! Madonna che t'ho fatto! Gli ho fatto l'abbattimento dall'altro! Bellissimo! Tu c'hai un cecchino? No! Davissimo! Ma gatti cazzo, questa cosa la facciamo di cattiveria! Aaaah ma santo! Conquistarla sarà molto molto difficile! Andiamo bene! Proprio bene! Buongiorno! Ma non c'è! Non ci sono andato sopra! Oh si, Erk è tornato! Nice! Io non le vedo! Io si! Ok questa è la porta! Bussiamo? Non arrendiamo chi! Ho buccato! Permesso! Niente! Permesso! Aia! Che succede? Vabbè! 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 Io vado a sinistra e tu a destra! Eh! Sapessi come si sale in sto posto di merda! C'è un rampino da me! 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 Dai! Io sono Ringo! Io no! Però tra poco si esco! Ma io ora morf! Non mi inda! Non mi inda! Uno è andato! Guarda uno! Ed! Ci sono uno poi scendi! Ci sono altri 4 aspetti! Non c'è quella gara! Non c'è quella gara! Hanno altri 2000! Porco! Ci siamo in 30 secondi! Non arretriamo! Stiamo arrivando a piedi! Quanto vado? Ecco, vaffanculo! Ah, ora si! Devo salire qua. Rapporto! 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 Desinguerò il posto! Rapporto! Rapporto! Bichou! 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 Aia! Bichou! 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 Sì, sì, grazie.